Continua la campagna di vaccinazione all'Aquila con numeri leggermente in calo rispetto ai mesi scorsi. A scattare una foto sull'attuale situazione è il dottor Domenico Pompei che spiega che ci sono meno prenotazioni a volte e che si ha anche necessità di mandare il personale ormai estremato da un anno di pandemia in ferie per cui sul lab di Bazzano si cercherà di ottimizzare i turni, lavorando probabilmente solo di mattina e non nel fine settimana e concentrando tutto di più sul lab di San Vittorino ma ribadisce che è un fatto fisiologico e che non ci sono problemi. C'è stato qualche giorno che abbiamo avuto un po' meno prenotazioni per cui c'è stata una lieve flessione sul numero dei vaccinati ma detto questo non accade nient'altro, adesso già sono risaliti quindi le prenotazioni ci sono, noi procediamo, i vaccini ci stanno per quanto riguarda invece il discorso di Bazzano è molto semplice, si avvicina il periodo estivo dobbiamo mandare in ferie un po' di personale chiaramente in maniera alternata e così via quindi essendoci sull'Aquila a due punti vaccinali cerchiamo di contrarre un pochettino l'orario su Bazzano magari se ci riusciamo a farlo lavorare soltanto la mattina evitando il doppio turno in maniera da recuperare un po' di risorse. In un momento in cui si spinge per le seconde dosi a causa della diffusione della variante Delta con i vaccini efficaci dicono gli esperti se si ha copertura con doppia dose in molti hanno voglia di vacanza e qualcuno ha chiesto lo spostamento dei richiami ma secondo Pompei è un fenomeno che ci può stare e non elevatissimo al di là delle ragioni è opportuno comunque completare il ciclo vaccinale nei tempi giusti per rispondere con quest'arma alle ulteriori difficoltà che si palesano. Qualche caso, qualche telefonata in cui si è chiesto uno slittamento della seconda dose di vaccino c'è stata a dire la verità ma fa parte un pochettino della dinamica normale della popolazione e quant'altro. Invece per quanto riguarda la necessità di effettuare la seconda dose nei tempi giusti previsti è assolutamente importante perché ormai è noto che una sola dose non ci protegge dalle varianti quindi è assolutamente indispensabile fare anche la seconda dose nei tempi raccomandati tant'è che mentre c'è stata una fase in cui si cercava di allungare un pochino il periodo di richiamo questo per favorire la maggiore copertura adesso invece si cerca di restringerla un po' proprio per favorire l'immunizzazione più elevata da parte della popolazione.